con l'assistente coach blaugrana Nicola Amato per fare un focus sul prossimo avversario di giornata della Lars Virtus Salerno parliamo chiaramente di Omegna ma parliamo anche della settimana che è appena trascorsa visto che questo weekend si gioca di sabato una settimana sicuramente particolare perché veniamo da una sconfitta scottante davanti al nostro pubblico con una sicuramente delle squadre più attrezzate del del girone che è la Libertas però una settimana dominata dalla voglia di rivalsa dal fatto di non accettare appunto come è andata la partita di poter provare a reagire sicuramente abbiamo delle difficoltà nell'allenamento perché ci sono dei giocatori che hanno avuto qualche acciacco su tutti i matroni che non avevamo neanche la settimana scorsa ai quali si è aggiunto anche qualche altro acciacco quindi abbiamo avuto qualche difficoltà ma dal punto di vista dell'atteggiamento sicuramente siamo contenti perché i ragazzi vogliono poi non rifarsi dopo la brutta sconfitta la settimana scorsa prossimo avversario si diceva Nicola Omegna una squadra in forma una squadra reduce da tre vittorie consecutive l'ultima delle quali ottenute con l'altra Livorno l'APL che avversario affronta un avversario sicuramente in fiducia perché viene da tre sconfitte da tre vittorie di fila un avversario che ha trovato la propria quadra dopo aver dopo aver cambiato qualcosa nel roster da lì è un avversario veramente molto più compatto molto più anche concreto dal punto di vista offensivo viene da vittorie importanti perché ha vinto a crema perché appunto ha vinto sul campo dell'APL e ha cambiato anche campo e che sarà una cosa sicuramente molto importante per loro giocare a gravellona in quel campo che la settimana scorsa all'esordio ha avuto quasi duemila tremila persone quindi sicuramente l'impatto del pubblico sarà importante per loro un avversario in fiducia e soprattutto un po' diverso dagli avversari che abbiamo affrontato finora nel senso che sono una squadra che ha un riferimento interno abbastanza palese a tutti che è Balanzoni alternato a Baldassare poi anche i numeri quattro sono sono degli esterni si affidano tanto al tiro da tre punti e questo è sicuramente un qualcosa che ci può mettere in difficoltà nel senso che riescono a appunto mischiare un po' quelle che sono le loro caratteristiche quindi nel momento in cui vogliono un tiro da tre punti hanno vari punti di riferimento nel momento in cui vogliono andare spalle lo possono fare sia appunto con Balanzoni sia con qualche esterno un po' più fisico come può essere ad esempio Picarelli Quali sono gli obiettivi? Cosa bisognerà cercare allora di fare per provare a portare a casa una vittoria che sarebbe chiaramente ossigeno pure in questo momento? Sicuramente togliere il tiro da tre punti perché è una cosa sulla quale campano nel senso che proprio da lì prendono molta fiducia fare in modo che anche i loro numeri quattro che sono tiratori debbano cercare di andare fuori dalla propria comfort zone quindi cercare magari di fare in modo che togli il tiro anche cambiando abbastanza difesa per provare a metterle in difficoltà fare in modo che, a differenza di quello che abbiamo fatto con Livorno, far trovare un po' la nostra area un po' più chiusa quindi essere un po' più compatte nella nostra fase difensiva e poi sicuramente non sono una squadra così aggressiva sulla palla quindi cercare di avere pazienza in attacco nella nostra esecuzione dei giochi per trovare la soluzione migliore in attacco Grazie mille per la disponibilità e in bocca al lupo per la sfida di sabato Viva, grazie a te